Il bilancio che scotta non si placano le polemiche in comune a Chieti, botte risposta tra opposizione e maggioranza. Fratelli d'Italia in una conferenza stampa ha ribadito la richiesta di scioglimento del Consiglio Comunale di Chieti per ritardi nell'approvazione del bilancio. Carla Di Biase, capogruppo in Consiglio Comunale, va all'attacco. Un'azione che si muove su due direzioni parallele, una quella del gruppo consigliare che nel Consiglio Comunale del 27 novembre ha presentato una pregiudiziale in cui si chiedeva il ritiro della delibera che portava il bilancio stabilmente equilibrato perché fuori dai termini di legge. Termini di legge che per noi decorrono dalla nomina dell'Oslo, quindi dal 2 agosto, e 90 giorni scadevano il 2 novembre. Versione confermata anche dal prefetto che con una amistiva al sindaco ha sottolineato come i 90 giorni effettivamente avevano scadenze il 2 novembre. Parallelamente, prosegue Di Biase, con Fabio Tumini del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, è stata scritta una lettera al ministro dell'Interno. Fratelli d'Italia l'ha chiesto in ogni sede opportuna, l'hanno chiesto i miei colleghi in Consiglio, non hanno avuto risultati, questa volta l'ho fatto io personalmente e l'ho chiesto in prima persona al ministro degli interni. Con una mia amistiva ho chiesto di intervenire e sciogliere immediatamente questo Consiglio, in totale palese in violazione dell'articolo 259 del testo unico degli enti locali. Hanno approvato il bilancio in ritardo e nella delibera di giunta del 21 dicembre, quindi parliamo di quasi due mesi di ritardo, comunicano che il bilancio non è stato ancora inviato. E stiamo cercando di accelerare ed evitare il ricorso al tarro. Il sindaco Ferrara non ci sta ed è pronta la risposta. Si stanno svegliando a due mesi dall'approvazione del bilancio in Consiglio Comunale perché sono in campagna elettorale e quindi qualsiasi motivo è buono per loro per metterla in cacciara. E secondo perché volendo, secondo i loro piani, fare cadere il Consiglio Comunale vogliono seppellire le reali motivazioni del debito ultramilionario che il centrodestra Chietino ha lasciato nei dieci anni precedenti alla mia amministrazione. Siamo tranquillissimi, prosegue il sindaco, sia dal punto di vista amministrativo che giuridico. Noi stiamo facendo un'opera di risanamento economico, finanziario della nostra città e chi vi si oppone vuol dire che è contro la città, è contro questa azione di risanamento. Quindi loro sono contro i cittadini di Chieti.